Salve a tutti, sono Conte di Vincenzo, candidato alla missione di Ennio, batteria pop rock. Oggi porterò l'interna clock 1 a 100 di bpm, l'interna clock 2 a 80 di bpm, il studio numero 51, il pop 2 con base shuffle A e come ultimo il brano di Vince, che ho spietto io, che è Just Last Fire. Buon ascolto! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.